La Moderna, se non si apre la fiala, dura 30 giorni. Il Pfizer, una volta scongelato, se rimane chiusa la fiala, dura 5 giorni. E anche l'AstraZeneca può essere conservato diverso tempo in frigorifero. Mentre se noi facciamo le siringhe, quella siringa deve essere poi utilizzata entro 6 ore. Ecco perché nei 6 centri vaccinali dell'US2 non si sprecano i vaccini. Come oggi ad esempio nella prima giornata dedicata agli ultrottantenni. Dalle boccette la preparazione delle iniezioni è variata costantemente in base agli arrivi degli anziani. In questo caso nel bocciodromo di Villorba trasformato in centro vaccinale. Un flusso costante ma senza code e attese e soprattutto tutti convinti della scelta. Quanti anni ha? 86. No, 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 96. Ci sono tanti suoi coetanei che non sono venuti a vaccinarsi perché hanno paura. Lei cosa gli dice? No, non vedo perché dovrei avere paura. È una forma di difesa, insomma anche questa. Ben, ben, sono contenta. Sono contenta a farlo. Un po' paura però. Eh, ora, credi eh? Ma adesso mi passa. Fatto tutto? Sì, sì, abbastanza. Tutto bene. Un po' di paura? No, no, no. Quanti anni? Ho fatto il militare. Beh, immagino. Quanti anni? 87. Io sono per il vaccino e basta.